Ciao, innanzitutto grazie per esserti abbonato al canale e ovviamente ai laboratori. Adesso ti faccio vedere come si importano e per quanto riguarda anche le immagini dei router e degli switch. Una volta aperto P.NET clicchi qui su Import. In questo caso selezionerai Cisco Labs, apri e verranno importati. Una volta importati, se clicchiamo qui sulla cartellina Cisco Labs, Labs, vedi che abbiamo diverse cartelle. Per esempio, prendiamone una sulle WAN. Questo è un laboratorio, Lab 19. Una volta che tu apri il laboratorio, in basso a sinistra trovi il workbook. Nel workbook ci sono gli obiettivi del laboratorio, cioè cosa devi fare. Quindi ci sono tutti i task. Man mano che avanzi nello studio dovresti essere in grado anche di applicare i comandi. Ma se nell'ipotesi, nell'eventualità che tu avessi problemi, su Solution trovi tutta la configurazione. Questo è per tutti i laboratori così. Ti faccio vedere una piccola overview di questi laboratori. Per esempio, prendiamo IP Routing. Qui vedi che ci sono molti Lab. Alcuni Lab sull'OSPF verranno poi integrati successivamente. Mancano perché devo controllare sul libro della CCNA, sui testi quelli attuali, se parlano del frame relay. Perché altrimenti se non parlano del frame relay è inutile farlo. Se non parlano di OSPF multierea è inutile farlo. E quindi anche per offrirti dei video che ti potrebbero essere utili, devo controllare. E quindi mi sono fermato soltanto due laboratori. Però sull'IRGRP e RIP, per esempio, ce ne sono, credo, un po'. Poi, per esempio, abbiamo i laboratori sulle Access List. Poi, qui ancora non c'è presente niente, perché qui in futuro, al prossimo aggiornamento, verranno aggiunti i laboratori per il troubleshooting. Però, tuttavia, devi tenere presente una cosa. I laboratori sono stati fatti nel più accurato modo possibile. Ma ho tralasciato alcuni errori, che ovviamente ti potrebbero creare problemi. Ma tu, come studente della CCNA, quindi esperto o futuro esperto di networking, dovrai trovare la soluzione. In alcuni laboratori manca, prendiamone un altro, prendiamo per esempio questo. In alcuni laboratori manca il tab Solution, perché non c'è la configurazione. Troverai soltanto il workbook con le cose che tu devi fare. Quindi, per esempio, questo è abbastanza semplice perché devi configurare l'IRGRP con le loopback. Quindi devi distribuire il protocollo, le reti. Poi, il titolo, qui, se vedi, c'è scritto configurare l'IRGRP routing using wildcard mask. Configurazione base di RGRP routing. Quindi, il titolo già ti dà un indizio. Perché qui, in questi laboratori, non è niente per caso. È tutto strutturato in modo che tu, anche se non ci fossero le istruzioni, tu possa capire cosa andrai a fare. Quindi, il file con i laboratori lo trovi in descrizione a questo video, che sarà solo disponibile, chiaramente, per gli abbonati laboratori. In futuro, ripeto, verranno integrati con altri laboratori, soprattutto per il troubleshooting. Però, credo che per il momento siano sufficienti per avere qualche settimana di lavoro. Ti ringrazio ancora e buon lavoro. Ti ringrazio ancora e buon lavoro.